Buona serata, nuova edizione del tv giornale di Telestense, diverse le notizie, tra poco purtroppo apriremo con un paio di notizie gravi di cronaca, ma parleremo anche delle giornate in campo, appoggio renatico dove si è parlato di produzione di grano e anche della crisi appunto del grano vista la situazione ucraina, parleremo anche di CNA che denuncia autotrasporti in crisi, serve un tetto al costo carburanti, ci occuperemo anche della Mille Miglia che passerà il 15 giugno a Ferrara e poi delle celebrazioni del 2 di giugno, questa mattina c'è stata una conferenza in prefettura. Cominciamo però subito purtroppo da una drammatica ultimora, episodio gravissimo avvenuto poco dopo le 18.30 a Porto Maggiore, notizie ancora frammentarie ma si parla di un bambino di un anno e mezzo caduto accidentalmente in una vasca biologica, ricoverato all'ospedale di Cona, avversa in condizioni gravissime e sul posto i sanitari e i carabinieri che stanno ancora accertando l'esatta dinamica dell'accaduto. E sempre sulla cronaca è in gravi condizioni ricoverato all'ospedale di Cesena, l'uomo di 56 anni di Porto Maggiore che a Lido delle Nazioni oggi è caduto da una pianta che stava potando, il 56 anni è stato elitrasportato e non hanno riportato ferite gravi invece i due dipendenti dell'azienda Clara che erano a bordo di un camion il quale si è ribaltato in un canale a Yolanda di Savoia. Torneremo su entrambe le notizie nelle prossime edizioni ovviamente anche su telestense.it ma adesso invece parliamo di grano, la questione dello sblocco del grano ucraino sul tavolo del Consiglio europeo da Macron che lancia una risoluzione all'ONU a Draghi che parla di rischio catastrofe elementare se non si trova un accordo con Putin. L'Italia investe sempre di più sulla produzione nazionale di grano, dice Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi che questa mattina rappresenta appoggio renatico nell'ambito delle giornate in campo organizzata con Consorzi Agrari d'Italia e SIS, Società Italiana Sementi. Nell'occasione sono stati presentati i risultati di un anno di sperimentazione effettuata in 30 campi varietali di tutta Italia. Con la genetica e l'agricoltura 4.0 sarebbe possibile aumentare del 12% la produzione nazionale di grano. Vediamo. Soluzioni tecniche che potrebbero consentire di aumentare del 12% la produzione di grano tenero e duro italiano con un risparmio per le aziende agricole del 9% rispetto ai costi di coltivazione tradizionali. È questa la ricetta che Consorzi Agrari d'Italia, SIS, Società Italiane Sementi e IBF Servizi hanno proposto per oltre 700 aziende agricole che hanno partecipato alle giornate in campo 2022 tour tra alcuni degli oltre 30 campi sperimentali gestiti dal gruppo per l'Italia che si è concluso con l'evento di poggio renatico. Dallo studio del terreno alla scelta del seme, dalla concimazione all'agricoltura di precisione sino alla raccolta del prodotto. Una giornata che lega la ricerca, lo sviluppo e le tecnologie in agricoltura con gli interessi del mondo della produzione in una fase storica del paese in cui il comparto cereali torna prepotentemente sull'altare della cronaca. Non per noi agricoltori ma per chi si è accorto in questi tristi mesi di quanto l'approvvigionamento delle materie prime sia indispensabile per le nostre filiere di eccellenza e anche per alimentare il mercato nazionale e internazionale. Una giornata che segna un punto importante per Società Italiana di Sementi e Consorzio Agrale d'Italia che diventano interlocutori prioritari di un mondo agricolo che è molto attento alla qualità delle produzioni, all'efficienza e alla salubrità anche delle produzioni in pieno campo. Per qualcuno la globalizzazione non esiste più? Beh certo, quello che è avvenuto in questi mesi ha segnato uno spartiacque tra il mercato che avevamo conosciuto fino a tre anni fa pre-covid e questi ultimi due anni. Il dato che emerge con chiarezza per tutti è che un paese come l'Italia deve mantenere una capacità produttiva forte e queste giornate danno un segnale inequivocabile che la produzione è l'unico modo per salvaguardare l'intera filiera agroindustriale italiana. E intanto i risultati delle giornate in campo sono stati presentati alla luce del difficile contesto internazionale e alla luce delle prime stime della campagna cerealicola che sta per iniziare. Ne abbiamo parlato con il presidente di SIS, Società Italiana Sementi, Mauro Tonello, che dice che un piatto di pasta con grano italiano costa solo 12 centesimi. Vediamo. Lo scenario geopolitico internazionale crea preoccupazioni prima all'aumento dei costi in materie prime, ora la guerra in Ucraina e in tutto questo chiaramente le scelte che devono essere fatte anche a breve termine. Su una questione io credo che sia giusto anche dare dei termini anche di chiarezza perché vedo che tutti parlano di aumento dei costi, di aumenti spropositati quando si parla di pasta, di riso e questo è un concetto che non può andare bene, non può spassare questo tipo di informazione perché per correttezza bisogna dire che un piatto di pasta costa ben 12 centesimi e mezzo e quindi 12 centesimi e mezzo non possono essere il vero problema dell'alimentazione e dei costi della vita della gente. È chiaro, prima forse ne costava 8, oggi costa 12 e mezzo, ma bisogna dire che prima venivamo da una stagione dove noi abbiamo spento l'agricoltura. Perché oggi l'Italia è così deficitaria anche rispetto al grano duro? Uno, perché sono aumentate le nostre esportazioni, quindi lavoriamo molto di più e esportiamo molto di più. Due, però, una questione non banale, abbiamo abbandonato tanti territori che producevano grano e significativamente grano duro perché non erano più economicamente validi, non si poteva più coltivare. Oggi si dice che è aumentato molto il grano, ma noi veniamo da una stagione di 10 anni dove l'agricoltore non guadagnava più niente. Quindi questa stagione va vista anche con un'ottica diversa, con un'ottica anche di valorizzazione del lavoro che gli agricoltori fanno e garantirci di avere materiale, materia prima, grano nostro che abbia anche questa attinenza appunto di sposarsi con gli nostri aspetti salutistici. Diventa importantissimo. Altro tema d'attualità è la necessità di un tetto al costo dei carburanti e bisogna puntare a inquinare sempre meno. È quanto chiedono dal settore autotrasporti che attraverso CNA avanza diverse richieste e fa il punto della situazione. Vediamo una testimonianza. La crescita smodata del costo dei carburanti che soprattutto non è stata attutita in maniera importante da un sistema che calmerasse questa situazione. Gioco forza il fatto che è innegabile che ci sia stata una speculazione di cui probabilmente nessuno vuole ammettere che c'è e comunque diciamo il nostro sistema governativo non ha fatto nulla per interrompere. Queste situazioni per noi operatori che siamo tutti i giorni sul campo e magari non capiamo tanto di economia ma sarebbero talmente banali da risolvere che io personalmente non mi capacito del fatto che nessuno possa mettere in campo qualcosa di più. Questo settore è entrato in crisi in Italia nel 97-98 quando c'è stata la liberalizzazione delle licenze e parallelamente l'entrata in vigore di operatori dell'est Europa dove praticamente siamo stati i primi a subire una situazione dove è stata condivisa una moneta ma non condivisa tutte le situazioni sociali. Quindi è una storia che viene molto da lontano, incapacità, imperizia e non vado oltre, dei nostri governanti. Quindi da 25 anni a questa parte non è stato visto questo settore come strategico per il Paese. Intanto collegandoci al tema dell'economia, secondo l'osservatorio economico della Camera di Commercio di Ferrara, le imprese femminili nel primo semestre 2021 sono aumentate dell'8%, ma 7 su 10 sono in forma in ditta individuale che non garantisce una crescita solida e stabile nel tempo. Ad elencare ciò che servirebbe oggi per facilitare il passaggio dalle imprese femminili da individuali a imprese di capitali è Guglielmo Bernabei, docente Unifè nell'articolo del CDS Cultura, tratto dall'intervento conclusivo all'iniziativa dagli atti del progetto sulla violenza economica a proposte e azioni in chiave europea e PNRR. Sentiamo. Che cosa servirebbe oggi alle imprese femminili ferraresi per la maggior parte costituite da una sola persona, la titolare, per raggiungere una solidità tale da far crescere il loro spazio di mercato e favorire lo sviluppo del territorio? Il ragionamento lo fa il professor Guglielmo Bernabei sui dati dell'osservatorio economico della Camera di Commercio di Ferrara, che fotografando le imprese femminili ferraresi ne registra l'aumento considerevole dell'8% nel primo semestre 2021, ma aggiunge 7 su 10 snoditi individuali. Per facilitarne la trasformazione in imprese di capitali, secondo Bernabei, socio CDS e dottore di ricerca Unife, servono diverse cose. Alcune toccano allo Stato, altre alle amministrazioni locali e regioni comuni, altre ancora alle dirette interessate. Si va dalla detersazione degli utili reinvestiti al credito d'imposta per gli investimenti, alle decontribuzioni per nuove assunzioni di giovani e donne. Da qui potrebbero scaturire aziende più strutturate e resilienti, attività di export e quindi un processo di internazionalizzazione che oggi è piuttosto scarso nelle imprese ferraresi. Tutte cose che non si improvvisano e che toccano la politica economica del territorio, la cultura dell'impresa e la cultura delle donne. Il Fondo Impresa Donna, che prevede una dotazione secondo alla legge di bilancio 2021 di 20 milioni di euro per il 2021 e di altri 20 nel 2022, costituisce, per molti osservatori economici, una risorsa troppo esigua e limitata. Lo stesso stanziamento di 400 milioni di euro dal piano nazionale rappresa di resilienza non appare sufficiente. Tuttavia, è in immediato. Le idee sul territorio non mancano, ma per incentivare l'occupazione femminile servono da un lato donne preparate alle sfide della conoscenza odierna e qui in un alto grado di alfabetizzazione digitale. Dall'altro servono strutture e istituzioni che sappiano mettersi in rete per attuare politiche a favore di nuove imprese. L'esempio portato da Bernabè riguarda il Basso Ferrarese, dove nel settore della sostenibilità ambientale ci sono spazi imprenditoriali vuoti da riempire. Ma per favorire una nuova vitalità di impresa al femminile in questo settore servono percorsi di raccordo fra ragioni e comuni, soprattutto quelli più piccoli, perché migliorino la loro capacità amministrativa e quindi la capacità di erogare servizi adeguati alle montate esigenze locali in un'ottica di programmazione e di verifica dei risultati raggiunti. Intanto mancano due settimane a un altro evento molto atteso a Ferrara, cioè il passaggio della Mille Miglia. Vediamo. Il 15 giugno prossimo la Mille Miglia passerà da Ferrara, città estense inserita tra le destinazioni della prima di quattro tappe. Fra il tardo pomeriggio e la serata, fra tre mercoledì, il passaggio a Ferrara delle auto del Ferrari Tribute to Mille Miglia e della Mille Miglia Ferrara 2022 Memorial Cesare Borsetti. Le auto giungeranno in città da via Padova, passando poi tra l'altro per via Bacchelli, corso Ercole Primo d'Este e corso Martiri della Libertà per il controllo orario e proseguendo quindi in corso Giovecca e via Pomposa in direzione Comacchio. Prima tappa che dopo la partenza da Brescia porterà le auto verso il Lago di Garda e poi appunto Mantova a Ferrara prima di approdare in serata a Cervia e Milano Marittima, ultimo arrivo della prima giornata. Seconda tappa poi passerà per Forlì, San Marino per puntare Norcia e poi Roma. La terza tappa partirà dalla capitale per arrivare a Parma. Nella quarta tappa si partirà per la prima volta da Stradella, poi Pavia, l'autodromo di Monza e infine Bergamo e l'arrivo a Brescia. Quella di quest'anno sarà la quarantesima edizione in forma di gara di regolarità e celebrerà anche il centenario dell'autodromo di Monza in un evento nell'evento atteso sabato 18 giugno. Intanto rimanendo sempre in ambito sportivo, purtroppo lo sport ferrarese ha perso uno degli artefici del miracolo che portò il grande volley al palasport. Ci ha lasciato Vanni Monari una vita dedicata alla pallavolo. Aveva 85 anni. Prima procuratore con grandi contatti nell'Europa dell'Est, approdò a Ferrara nell'estate del 1993 quando a quattro torri militava in A2. A Ferrara sarà sempre ricordato, oltre che per le sue capacità tecniche, per un carattere gioviale e una disponibilità al dialogo che si fatica a riscontrare in ambienti sportivi odierni. Adesso invece cambiamo argomento. Mancano pochi giorni al 2 giugno, festa della Repubblica che a Ferrara prevede diversi momenti. Giovedì alle 10 in piazza Trento Trieste si terranno le celebrazioni e poi la premiazione del concorso Le Madri Costituenti dedicato agli studenti. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata, tra cui il lancio di paracadutisti con una bandiera nazionale di 400 metri quadrati all'aeroporto di Ferrara alle ore 16. La prefettura è in corso Ercole I d'Este, poi rimarrà aperta per visite tutto il giorno con pausa durante il pranzo. Ma a questo punto sentiamo il prefetto di Ferrara. Ci tengo molto all'apertura di questo ufficio. Questo ufficio che a volte è visto come istituzione un po' misteriosa, lontana, è aperta ai cittadini dalla mattina fino alle 20 della sera e tra l'altro concludendo la giornata con una bella esibizione dei ragazzi e delle ragazze del nostro conservatorio. Quindi la prefettura aperta alla cittadinanza, ecco, molto importante. Poi le proposte, i momenti sono tanti, a cominciare dal momento ufficiale in piazza Trento e Trieste e poi un incontro a prefettura col volontariato e poi all'aeroporto con una bandiera enorme che scenderà con un paracadutista e poi le consegne ai cittadini meritevoli dell'ordine al merito della Repubblica, dei cavalieri e ai familiari dei deportati nei lager nazisti. Insomma, tanti momenti. Ognuno magari vivrà e seguirà come potrà alcune fasi della giornata. Ecco, l'importante è che risveglino e sottolineano in noi l'adesione ai valori della libertà, della democrazia che si affermano il 2 giugno del 1946. E non dimentichiamo, con l'affermazione dei diritti e delle libertà, anche il dovere inderogabile, come dice la Costituzione, di solidarietà, il cemento vero che ci unisce come concittadini. E adesso la pagina è dedicata alla sanità. Parliamo di Covid. Continua il calo dei nuovi positivi nel Ferrarese, ma i dettagli li vediamo nel servizio. Solo 36 nuovi positivi nel Ferrarese su un numero considerevole di tamponi e ben 228 nuovi guariti. E quanto emerge dall'ultimo bollettino coronavirus, da cui emerge purtroppo un nuovo decesso, una Ferrarese di 71 anni. Pressione ospedaliera in calo in territorio estense, 36 posti occupati a Cona, 33 al Delta e 12 a 100. L'aggiornamento in Emilia Romagna registra circa 900 nuovi casi, quasi 2000 nuovi guariti e 9 i decessi totali stabili. I ricoveri in terapia intensiva a livello regionale in calo, la pressione nei reparti Covid sempre a livello emiliano-romagnolo. E parliamo della stagione di prosa al Teatro Comunale di Ferrara. Torna la campagna abbonamenti con 12 spettacoli in cartellone tra grandi classici, autori internazionali e nuove drammaturgie più 6 spettacoli extra fuori abbonamento. Una ripartenza in uno dei teatri più belli del mondo, come ha detto Monio Vadia, e da ottobre 2022 a maggio 2023 sul palco dell'Abbado tanti nomi che potete leggere su telestense.it. Sentiamo a questo punto le interviste, si è parlato anche del futuro della Sala Boldini in ottica di collaborazioni col teatro. Abbiamo cercato di fare una stagione straordinaria sia per numeri, sono 18 titoli e anche speriamo per qualità, ma questo lo dovrà dire il pubblico. Ritorniamo agli abbonamenti, ci sarà la possibilità di abbonarsi ai 12 appuntamenti dei spettacoli di prosa oppure di fare un carnet di 6 appuntamenti a scelta. Abbiamo individuato tre aree tematiche, i grandissimi, i classici, Shakespeare, Goldoni, Ruzzante, Pirandello, Ibsen. Abbiamo un'area tematica dedicata ai grandi autori del Novecento. Poi oltre questo, oltre gli appuntamenti previsti dal calendario della prosa, 12 appuntamenti di prosa che saranno dal venerdì alla domenica, abbiamo individuato 6 appuntamenti speciali e per cui avremo Teresa Mannino, avremo anche giornalisti come Aldo Cazzullo. Nel centenario della marcia su Roma ricorderemo l'omicidio, il rapimento di Matteotti con una giornata che sarà dedicata la mattina per le scuole e la sera per il nostro pubblico, ma avremo anche Arturo Brachetti, ci sarà lo spettacolo degli extra liscio, tanti appuntamenti per un teatro aperto alla città. Finalmente in un paese che ha avuto teatranti leggendari che hanno fatto scuola nel mondo, tutto il mondo invidia la commedia dell'arte e gli eredi della comunità, ma non solo, i grandi teatranti, l'opera, il teatro dopo, capisca finalmente che non è una cosa che si fa nel dopolavoro, ma che richiede sacrificio, passione e una tecnica di lavoro che sarebbe di ammaestramento anche all'industria, al turismo, a qualsiasi cosa. E quindi che finalmente si capisca questa cosa. La direzione che l'amministrazione sta portando avanti con grande intensità è quella ovviamente di dare una seconda sede al teatro, di darla non in maniera esclusiva, ma di rendere la sala Boldini come un elemento di continuità teatrale con una serie di eventi dedicati anche al teatro ragazzi, ma anche di altra tipologia di teatro. Attendiamo che la sala Boldini venga terminata, manterrà ovviamente la destinazione d'uso della programmazione cinematografica di Arci, rivedrà una rivisitata Cineteca Vigor e in più avrà anche la destinazione d'uso teatrale. Intanto continuano gli incontri di Farmers Got Talent. Ieri sera appuntamento a Roffa e Rarese in un agriturismo dove si sono riuniti i giovani con la terzo dei cinque appuntamenti organizzati da Coldiretti. Vediamo. Abbiamo fatto due serate, prima nella zona di Argenta Portomaggiore e poi quella di Bondeno. Sono state direi un autentico successo. C'è stato un grande richiamo, un grande risposta da parte dei ragazzi, ragazzi molto propositivi, curiosi, quello che un po' noi volevamo anche proprio con la formula di chiamarla Farmers Got Talent un po' andando a rivisitare quelli che possono essere i talk show più famosi che ci sono in giro proprio attraverso un dibattito e un confronto generazionale che vi può essere un po' come quello che succede quotidianamente nelle aziende agricole tra il figlio e il padre. Quindi quando vi è un subentro il figlio che arriva in azienda, che vuole portare idee nuove, il padre che invece magari è ancora attaccato ai propri valori, ma questo non per dire che uno abbia torto o uno abbia ragione, proprio perché il mix tra le due cose diventa assolutamente un qualcosa di positivo. Giovani che si avvicinano anche a voi, diciamo senior, per chiedere consigli e anche per raccontare e condividere esperienze? Sì, i giovani sono interessati ma comunque soprattutto noi senior, se così ci vogliamo chiamare, dobbiamo essere molto costruttivi e coinvolgenti verso i giovani, è fondamentale, è fondamentale lo ripeto, tirare sui giovani. Io ormai è un paio d'anni che faccio parte del movimento di giovani di Ferrara, ho già partecipato ad altri incontri, da parecchi incontri ecco, tutte le volte ci sono ragazzi nuovi che per incontrarci ci scambiamo anche molte informazioni. Sono momenti che servono anche perché in agricoltura in genere si è molto individualisti, diciamo, cioè si lavora sul proprio terreno e invece è molto bello avere queste situazioni di confronto e anche imparare cose nuove e sentire le varie situazioni delle altre aziende. Una serata piena di giovani, mi sembra che Coldiretti su questo tasto abbia dato già i suoi frutti ma ancora una volta riesce a sbalordire perché mi pare di capire che giovanissimi, quindi siamo già in una terza generazione di giovani che entrano in Coldiretti, quindi un qualcosa che fa ben sperare per il prossimo futuro di questa organizzazione. Pensiamo che sia la strada giusta per ottenere traguardi, bisogna avere amore per quello che si fa, ma anche tanta passione, crederci e cercare piano piano di scalare sempre più vette importanti, cime importanti in modo da rendere più qualitativa la propria impresa, rendere più qualitativo il proprio prodotto. E questa era l'ultima notizia, vi ricordo ulteriori aggiornamenti su telestense.it e sui nostri canali social, per cui grazie per averci seguito e a tutti gli auguri di una buona serata. Grazie a tutti.